Ci troviamo allo stand di Arterix, presentando le news ISPO per l'inverno 2012-2013. Ci troviamo di fronte alla giacca simbolo di Arterix, Alpha Jacket, che nasce nel 98. È una giacca che ha avuto un'incredibile evoluzione fino ad arrivare ad oggi e riuscire a vincere finalmente un ISPO Award 2012. È una giacca con alte prestazioni a livello tecnologico. In questo caso viene utilizzato un nuovo tessuto Gore, che si chiama N80PX, un tessuto che ha delle fibre molto strette, che non lasciano spazio. E questo garantisce una grandissima traspirabilità, durevolezza e resistenza all'acqua. Questo è un prodotto fondamentale nella collezione di Arterix per l'anno prossimo, perché tutta la collezione sarà concentrata principalmente sull'alpinismo. In questo caso sono riusciti a creare un prodotto estremamente leggero, quindi quasi un 10% più leggero rispetto ad Alpha dell'anno precedente. E questo garantisce anche maggiore comfort, sia per la salita sia per la discesa, chiaramente. È presente una buona gamma di colori, quindi la scelta è abbastanza ampia. I colori principali li vedete esposti, chiaramente l'arancione e il blu saranno i colori che caratterizzeranno la collezione dell'anno prossimo. Le caratteristiche principali sono le tasche laterali, che garantiscono comfort e facili da raggiungere per l'alpinista. Le tasche sulla parte davanti, che garantiscono sicurezza, sono tutte tasche in sicurezza. E poi all'interno possiamo notare il fatto che tutte le giacche di Arterix e principalmente l'Alpha Jacket sono termosaldate e quindi garantiscono chiaramente durevolezza e assolutamente calore e comfort. Grazie a tutti.